ed ecco signore e signore finalmente il digifast con gli ingressi hdmi perfettamente integrati una volta selezionato l'ingresso passano circa 14 15 secondi in cui nel prodotto che ho visto c'era ancora in evidenza il desktop di windows ma nella versione definitiva non si vedrà dopodiché viene agganciato all'ingresso ovvero in questo caso l'apple tv con il suo salvaschermo e con la frequenza di refresh perfettamente identica quella sorgente in questo caso una veloce navigazione attraverso il menu dell'apple tv selezioniamo amazon prime video perdonate la messa a fuoco del cellulare e andiamo subito a cercare un contenuto che conosco molto bene ovvero the boys stagione 2 vediamo un po episodio 5 magari sì e avviamo il contenuto in questo caso nessun problema né con scatti né con qualità video osservato attraverso un display panasonic 4k lcd in questo caso per gli approfondimenti dovremo invece lavorare un po di più